L'obiettivo principale di questa associazione è quello di creare degli spazi dove persone, cosiddette abili e disabili, si possono incontrare e possono fare qualcosa assieme. Un progetto che è in piedi da lungo tempo è un laboratorio teatrale di cui presentiamo qui oggi delle fotografie e della documentazione. L'ultimo spettacolo messo in scena dal laboratorio teatrale Dindon Down è M, il Minotauro, che è stato pluripremiato quest'anno a un festival nazionale. Adesso sono circa 10-15 volontari e di ragazzi disabili ce ne sono circa 20-30, dipende anche da le iniziative. È un gruppo di volontariato, una onlus, i ragazzi afferiscono da varie strutture ma non abbiamo una collaborazione diretta.